Anche l'Università di Camerino ha partecipato nei giorni scorsi alla terza edizione della Marketplace Day, l'iniziativa promossa dalla piccola industria di Confindustria Marche. Per un giorno intero il pala indoor di Ancona si è popolato di desk, dove ogni azienda ha potuto farsi conoscere e al contempo conoscere le attività delle altre realtà presenti. L'Ateneo ha presentato tutte le attività di stage e placement, le collaborazioni con le aziende del territorio, oltre all'intera offerta formativa. L'evento ha inoltre rappresentato una vetrina molto importante per gli spin-off di Unicam, che hanno partecipato con entusiasmo mettendo in mostra i prodotti realizzati grazie all'attività di ricerca nata da geniali intuizioni di giovani laureati e ricercatori dell'Ateneo, in collaborazione con aziende radicate nel territorio. Presente all'evento anche il neopresidente nazionale di Confindustria, Vincenzo Boccia, alla sua prima uscita ufficiale, che ha subito avuto modo di apprezzare la qualità e l'eccellenza della ricerca Unicam, mostrando grande curiosità per il progetto Talking Hands, realizzato dallo spin-off Unicam Limix.